Analizziamo adesso il circuito composto da un resistore e un condensatore in parallelo, quindi il circuito RC parallelo. Schematizziamolo, il generatore di tensione è il parallelo del resistore R e di un condensatore di capacità C. Tensione del generatore R e C, i due componenti. Indichiamo la corrente I erogata dal generatore, indichiamo le due correnti nei rami del resistore del condensatore come IR e IC e la tensione ai capi del parallelo ovviamente uguale alla tensione V del generatore. Nel parallelo sappiamo che lavoriamo meglio con le ammettenze. L'ammettenza del parallelo è uguale alla somma delle ammettenze dei due rami, quindi l'ammettenza di R più l'ammettenza di C. Ricordiamo che l'ammettenza di R è data dall'inverso dell'impedenza di R, quindi di Z con R, quindi all'inverso di R è uguale quindi alla conduttanza G. Per il condensatore sappiamo che l'ammettenza che è data sempre per definizione dall'inverso dell'impedenza sarà uguale a 1 diviso 1 fratto J ωC che è l'impedenza del condensatore. Quindi risulta essere uguale a J ωC e questo termine qua prende il nome di suscettanza capacitiva BC che è espressa in Siemens, quindi l'ammettenza YC è immaginaria pura positiva di valore pari alla suscettanza della capacità C, quindi alla suscettanza capacitiva BC. Quindi continuiamo l'espressione dell'ammettenza del parallelo che sarà data dalla somma delle due ammettenze, quindi G più JBC. Si tratta quindi di un numero complesso con parte reale e parte immaginaria, entrambe positive, rappresentiamole come modulo Y è fase FI con fase PSI, più che fase chiamiamolo correttamente angolo caratteristico dell'ammettenza che risulta essere sempre un valore positivo, essendo positiva la suscettanza capacitiva e quindi la parte immaginaria del numero. Disegniamo l'ammettenza sul piano di Gauss, abbiamo parte reale uguale alla conduttanza G, rispettiamo i colori che ci siamo dati, quindi la conduttanza G, rappresentiamo in arancione, e la suscettanza BC come parte immaginaria. Quindi questi due componenti individuano l'ammettenza del parallelo data dal segmento Y avente angolo caratteristico PSI, dove l'angolo caratteristico PSI risulta essere compreso fra 0 e 90 gradi, sempre positivo compreso fra 0 e 90 gradi. Se andiamo a rappresentare il parallelo delle due componenti R e C con l'impedenza equivalente del parallelo, quindi se andiamo a calcolare l'impedenza equivalente che chiamiamo ZP del parallelo fra R e C, troveremo che l'impedenza Z con P avrà ovviamente una sua espressione algebrica con una parte reale RP e una parte immaginaria JX con CP, questa è la rappresentazione algebrica dell'impedenza dove ovviamente però la parte sarà meno JXCP essendo negativa la riattanza capacitiva, quindi la parte immaginaria. Quindi avremo la possibilità di esprimere l'impedenza come modulo e fase FI dove l'angolo caratteristico FI risulta essere uguale a meno l'angolo caratteristico FI dell'ammettenza, quindi anche nel parallelo fra R e C come nel parallelo fra R e L l'angolo caratteristico dell'ammettenza risulta essere uguale e opposto come segno all'angolo caratteristico della impedenza equivalente. Quindi se rappresentiamo l'impedenza equivalente sul piano di Gauss avremo parte reale RP, parte immaginaria negativa meno XCP, queste due componenti individuano sul piano la impedenza equivalente del parallelo data da questo segmento ZP avvente angolo caratteristico FI che è uguale a meno PSI, angolo caratteristico dell'ammettenza. Continuiamo l'analisi andando adesso a calcolare le due correnti nella resistenza e nel condensatore utilizzando ovviamente la legge di Ohm generalizzata. Quindi intanto calcoliamo prima la corrente totale nel circuito, quindi V fratto Z uguale anche a Y per V, quindi passiamo alle forme polari, quindi l'ammettenza Y di angolo caratteristico PSI moltiplicata per la tensione V di fase FI avremo nel prodotto il modulo dato dal prodotto dei moduli, Y per V è la fase data dalla somma delle fasi, FI V più PSI dove PSI abbiamo visto essere sempre positivo, quindi la corrente I risulta essere sfasata in anticipo rispetto alla tensione di un angolo pari all'angolo caratteristico dell'ammettenza PSI, quindi in un circuito RC parallelo la corrente risulta essere sempre in anticipo sulla tensione o viceversa la tensione ai capi del parallelo sarà sempre in ritardo con la corrente totale. Quindi queste due relazioni sempre valide, le riquadriamo per evidenziarle. Ovviamente I e V hanno una relazione di fase uguale anche a quella che avevano nel circuito RC in serie, quindi sempre con la corrente in anticipo sulla tensione. Rappresentiamo sul piano di Gauss il diagramma vettoriale della tensione della corrente che abbiamo determinato. Quindi partiamo dal generico vettore che rappresenta la tensione, supponiamo sia questo con fase FI V, avremo che la corrente risulta essere in anticipo, quindi sulla sinistra della tensione V, in anticipo di un angolo pari all'angolo PSI caratteristico dell'ammettenza. La fase FI con I della corrente sarà data quindi dalla somma di FI V più PSI e questo è l'angolo caratteristico della corrente che abbiamo detto è in anticipo sulla tensione. Vediamo adesso, come detto prima, le due componenti della corrente I, quindi la corrente nel resistore R e la corrente nel condensatore C. Calcoliamole sempre con la legge di ohm generalizzata, sappiamo che la corrente è data dal prodotto dell'ammettenza per la tensione, quindi per I con R avremo YR per V, vettoriali, quindi avremo conduttanza fase 0 per YR e V fase FI V per la tensione. prodotto dei moduli, somma delle fasi per risolvere il prodotto, quindi avremo la fase FI V più 0 uguale a FI V, quindi la corrente nel resistore sarà ovviamente in fase con la tensione, come sempre succede in un resistore. Nel condensatore ripetiamo il calcolo, sempre con la legge di ohm generalizzata, ammettenza YC per tensione V, quindi passiamo alle rappresentazioni polari, quindi suscettanza BC fase 90 gradi è tensione di modulo V fase FI V, prodotto dei moduli, somma delle fasi, quindi abbiamo che la corrente nel condensatore avrà una fase in anticipo di 90 gradi rispetto alla tensione, mentre il modulo della corrente nel condensatore IC sarà uguale al prodotto del valore efficace della tensione per la suscettanza del condensatore. A questo punto possiamo disegnare il diagramma vettoriale complessivo del circuito con tutte le tensioni e tutte le correnti, quindi ripartiamo dal piano di Gauss, ripartiamo dall'equazione di Kirchhoff al nodo che lega le correnti che abbiamo determinato, quindi sappiamo che la corrente entrante nel nodo I, che è quella erogata dal generatore, deve essere uguale alla somma vettoriale delle due correnti nei due rami resistivo e capacitivo, quindi iniziamo a disegnare il diagramma vettoriale, partiamo dalla tensione V del generatore, disegniamo la corrente I erogata dal generatore in anticipo dell'angolo PSI caratteristico dell'ammettenza rispetto alla tensione, la corrente IR in fase con V si troverà lungo la direttrice determinata dal vettore V che qui tratteggio, la corrente IC invece è in anticipo di 90 gradi sulla tensione V, quindi forma quest'angolo di 90 gradi in anticipo rispetto alla direttrice di V, quindi i due vettori componenti della corrente I, la IR sarà questa e la IC sarà quest'altra, Grazie. Grazie. Grazie.